Nuovo giorno di sciopero, questa volta di otto ore alla Panini S.p.a. Le lavoratrici e i lavoratori, dopo la manifestazione di quattro ore della scorsa settimana, sono tornati infatti a protestare davanti ai cancelli dell'azienda colosso mondiale di figurine per chiedere di non ridurre le ore di smart working. I manifestanti infatti vogliono mantenere i 44 giorni annui di lavoro a casa garantiti e mantenere gli ulteriori 44 addizionali.